Buonasera a tutti, eccoci tutti al terzo incontro dell'iniziativa intitolata c'era una volta il lavoro, promossa da Punto Critico Blog. Dopo aver analizzato gli anni della seconda guerra, del secondo dopoguerra, con un'attenzione particolare al conflitto sociale e alla stagione artistica nata con la contestazione del 68, ci siamo concentrati sul ruolo che la musica ha avuto negli anni 70 e sul cosiddetto riflusso degli anni 80, cioè sull'allontanamento delle masse dalla politica e sulla spolitizzazione del mercato. Questa sera ci concentreremo sullo sviluppo dei rapporti di produzione e sulle politiche del lavoro da Maastricht in poi. A riflettere su questi temi ci aiuteranno Ivan Volpi, redattore di Punto Critico, e Maurizio Zenettini, professore d'economia dell'Università di ITS. Saluto anche Fabio Cabrini, redattore di Punto Critico, che al termine dei due interventi porrà delle domande ai nostri redattori. Bene Ivan, cosa ci racconti? Ciao, ciao Riccardo, ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Qui io riprendo il nostro viaggio attraverso il mondo del lavoro. Abbiamo, come tu hai accennato, attraversato gli anni delle grandi conquiste e del boom economico, quelli segnati dal conflitto sociale. Abbiamo visto i luccicanti anni Ottanta, quelli del reflusso culturale. Ora ci avviciniamo ancora un po' ai giorni nostri e parliamo degli anni Novanta. Quelli durante i quali avviene una deflagrante frammentazione, un'evidente disarticolazione del mondo del lavoro. Attraverso un incontrollabile, o sarebbe meglio dire un irragionevole processo di precarizzazione delle condizioni di vita dei lavoratori, un nuovo ordine, mi viene da dire, si consolida. Come premessa del discorso che andrò a tratteggiare, voglio che fissiate nella vostra mente tre punti scientificamente definiti, elementi importanti sia per senso che per scala, per scala di importanza ed influenza. Il primo punto è l'indice di protezione del lavoro. L'Employment Outlook dell'Ocse del 99, un rapporto sull'occupazione, poi replicato, aggiornato, più e più volte, con esiti sempre confermati, anche da esponenti del pensiero economico mainstream, come Tito Boeri, per citare uno che sicuramente conoscerete, certifica che il livello medio di protezione del lavoro, l'EPL, è un indice che misura il grado di tutela di cui godono i lavoratori e le lavoratrici in ciascun paese, è scaduto e caduto del 18%. Ben peggiore è il valore della varianza nei diversi paesi. La varianza è quel valore numerico che descrive come la variabilità delle osservazioni accadono sulla media aritmetica. Quindi la varianza è caduta del 68%, quindi quello che manca, diciamo, è una omogeneità del processo, ma quel che è certo è che c'è chi sta male e chi sta peggio. Da noi il dato si attesta a un meno 30%, peggio di noi ha fatto solo la Grecia e questo mi sembra sia sintomato. Secondo punto da tenere bene in mente, il rapporto occupazione-flessibilità. Il World Economic Outlook del 2016, redatto dal Fondo Monetario Internazionale, quindi un istituto più che autorevole, evidenzia che le riforme che facilitano il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato non hanno in media effetti statisticamente significativi né sull'occupazione né sulle altre variabili macroeconomiche. Le evidenze, le evidenze empiriche su 26 analisi relativi agli stock totali di occupati e disoccupati, ci mostrano che in 18 di esse la flessibilità non ha alcuna correlazione né con la disoccupazione né con l'occupazione. Quindi, detto in soldone, i contratti precari non stimolano l'occupazione. Terzo punto che vale la pena ricordare, lo sciopero. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro certifica che dal 1990 la media delle ore di sciopero nei paesi oxe è crollato del 42%. Inoltre, la varianza sempre tra paesi è precipitata dell'83%, quindi è una tendenza generale, non c'è più una dialettica dello scontro, quella che sta alla base dell'idea di sciopero. Questo che cosa vuol dire? Che forze misteriose stanno operando pressoché indisturbate per degradare il lavoro e i lavoratori. Nessuno nega ovviamente che in un mondo globalizzato il grado di interconnessione sia aumentato e che ci siano importanti processi di scala internazionale. C'è sicuramente una tendenza globale alla concentrazione dei processi produttivi associati all'esercizio del potere. Per usare le parole di Emiliano Brancaccio, quelle che lui adopera nel suo ultimo libro, Democrazia sotto assedio. Evidente tuttavia che assistiamo al declino della capacità produttiva del nostro paese e all'annichilimento della classe lavoratrice in nome di quella democrazia azionaria che preserva i grandi capitali internazionali, lasciandoli libri di andare dove maggiore il profitto e minore la tassazione e maggiore, io dico, la possibilità di trattare male i lavoratori. Assistiamo all'impoverimento del valore delle quote di reddito nazionale. Da noi l'Istat ha certificato dati alla mano e che siamo, che continuiamo a essere sotto media europeo. La quota di reddito nazionale, ricordiamocelo bene, è quella che va nella maggior parte nelle tasche dei lavoratori precari, nei lavori dipendenti, nei lavoratori autonomi, diversamente da quello che accade nel mondo della finanza dove, sempre per tornare al libro che ho citato prima, l'80% del capitale quotato nelle borse mondiali è arrivato a essere controllato da meno del 2% degli azionisti. Come ce lo spieghiamo? Come abbiamo fatto ad arrivare fino a qui? Vi lancio una suggestione. Osservate questa immagine. Qualcuno di voi l'avrà già vista, sicuramente, è un'immagine conosciuta. Proviene, è una rappresentazione figurativa che a fine 1800 lo psicologo statunitense Joseph Gestrov creò per descrivere appunto un'illusione ottica. In un'unica immagine si può percepire una testa d'anatra che guarda verso sinistra oppure una testa di coniglio che guarda verso destra. Che non vediamo quindi a quello che abbiamo davanti agli occhi? È un'anatra o un coniglio? Per saperlo dobbiamo guardare bene, riconoscere l'illusione ottica. Solamente riconoscendo l'opacità di un racconto che vuole essere unico e dominante, possiamo cercare una narrazione, una narrazione diversa. Per farlo dobbiamo imparare ad utilizzare gli attrezzi del mestiere nella maniera corretta. Sto parlando di quegli attrezzi, di quegli arnesi, che si trovano, per rimanere in metafora, nella cassetta degli attrezzi appunto degli artigiani. Un martello, una tenaglia, un cacciavite... differenti sono le loro funzioni quanto differente è la funzione delle parole. Come gli attrezzi assumono un valore d'uso e una funzione, solo se utili nell'ambito di certe attività, assolvendone appunto uno scopo, così anche le parole oggetto hanno un senso solo se si traducono in pratiche di riconoscimento veritiere. Possiamo usare un cacciavite per stringere delle viti allentate, per smontare o ricomporre una macchina che non funziona. Quindi, torniamo a noi. Bene, andiamo a vedere quali sono gli attrezzi che io ho scelto. Ne ho scelti nove. Sono serviti a costruire oppure a decostruire un certo mondo del lavoro. Il primo oggetto. Il primo oggetto è sicuramente la Costituzione della Repubblica Italiana. Non possiamo prescindere da un testo fondamentale come la Costituzione. Come tutti sappiamo, al primo articolo essa recita così. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Parte tutto da lì. Quindi, questo è il nucleo di partenza di tutto il nostro discorso. Secondo oggetto. Il secondo oggetto, adesso facciamo un salto temporale, è la legge 300, quella del 1970, detta anche Statuto dei Lavoratori. Quindi, in un clima, come abbiamo visto, sociale, in forte ebollizione, questa conquista, perché di conquista che si tratta, nulla è stato regalato, sancisce l'ingresso dei luoghi di lavoro. I lavoratori, senza distinzione di opinione politica, sindacale e fede religiosa, hanno diritto nei diversi, nei luoghi di lavoro, dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero. Bene, arriviamo più vicini ai giorni nostri, con un terzo oggetto, la legge 104 del 92. Si potrebbe dire l'ultima della sua specie. È la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili, ancora definiti nel testo di quell'anno con una parola oggi inutilizzabile, handicappati. Lo scopo della norma, come si legge nelle righe del testo, è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e della socializzazione, nonché integrazione, nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società, delle persone disabili. In questo modo, con questo strumento, si vuole prevenire e rimuovere gli ostacoli che non rendono possibile la piena realizzazione della persona, il raggiungimento della massima autonomia compatibile con l'handicap. E la ricerca, per tornare al nostro primo punto, della realizzazione del principio delle pari opportunità, previsto e descritto dall'articolo 3 della Costituzione. Ogni cittadino è uguale, a prescindere dal suo stato di salute ed è compito dell'istituzione rimuovere qualsiasi ostacolo che si oppone alla piena realizzazione della persona sotto il profilo scolastico, lavorativo e sociale. Questa legge è simbolicamente significativa, in quanto fu l'ultima di una serie che migliorarono la vita e le condizioni dei lavoratori, che diedero piena realizzazione ai principi di uguaglianza universalistica appunto espressi dal dettato costituzionale. Le altre, come detto prima, sono la legge 300 e non dimentichiamoci la legge 883 del 78, quella che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. Oltre a queste dobbiamo aggiungere la legge 18 del 1980, quella che introdusse nel nostro ordinamento l'indennità di accompagnamento, alla quale appunto, alla quale indennità hanno diritto gli invalidi civili. Un altro motivo per cui questo testo, diciamo, questo testo di legge del 92 è molto importante è la coincidenza temporale nel quale avviene. Nello stesso mese, nello stesso anno, il trattato di Maastricht ribattezza la CE con il nome di Unione Europea. Elemento centrale del trattato è la regola fiscale che richiede ai governi degli stati membri di mantenere i loro disavanzi al di sotto del 3% del PIN. Da questo bivio della storia si consolida in maniera irrevocabile un processo che trova la sua ragion d'essere in quelle parole di Guido Carli che, negoziatore per l'Italia, disse bisogna colpire salari e pensione. Permettetemi, voglio qui aprire giusto una brevissima, una brevissima parentesi, perché come prima ho accennato, questo va a incidere su dei processi, anzi ci sono processi di larga scala che incidono su questi fatti. Il 1992 è l'anno della conferenza di Rio de Janeiro ed è l'unica, secondo me, è l'ultima vera e concreta possibilità di una svolta ecologica del modo di produzione capitalistico. Con gli Stati Uniti purtroppo, che con il loro 30% di produzione di allora di CO2, la affondano, si mettono di traverso e non permettono di arrivare a delle soluzioni compite. Bene, passiamo al quarto oggetto, la concertazione, come dico io, obbligatoria. È un'idea che sta agli antipodi di quello che abbiamo analizzato un paio di settimane fa, il conflitto. Siamo in un'epoca, siamo nell'epoca di Tangentopoli, il 31 luglio di quel famigerato 92, la scala mobile, o ciò che ne rimane dopo i quattro tragici accordi degli anni 80 fra esecutivo e confederazione e confederazioni sindacali, viene definitivamente soppressa con la firma del protocollo d'intesa tra governo e parti sociali. Al fine di realizzare gli obiettivi del protocollo del 92, alcune importanti riforme strutturali prendono piede. La più importante dal nostro punto di vista, dal punto di vista del discorso che stiamo facendo in questo momento, è quella che ridisegna i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sindacale, ridefinisce gli assetti contrattuali secondo il modello del doppio livello di contrattazione e grazie all'accordo decreta per legge l'azione sindacale confederale, calpestando qualsiasi criterio di rappresentatività. L'accordo in questo modo riesce a predisporre regole istituzionali precise sulle fonti e sugli attori in campo. Quindi, al fine di assicurare un quadro stabile e governabile alle relazioni industriali, il conflitto sindacale viene bandito e praticamente azzerato. Attraverso quello che ricordiamo con il titolo di protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione, il costo del lavoro, viene espressa l'urgenza di contenere il disavanzo statale per sostenere gli obiettivi di politica economica e convergere verso i già citati parametri e trattato di Maastricht. E lo scopo della concertazione dai salari alla politica economica fino al welfare si abbandona la visione delle politiche ridistributive a favori di soluzioni regolative consensuali. Sono anni tuttavia ancora convulsi, arriva Berlusconi che tenta una manovra finanziaria come viene detta, lacrime e sangue, tenta di riformare le pensioni senza il consenso delle delle organizzazioni sindacali, si concatenano una serie di scioperi che per fortuna hanno il loro riescono nel loro intento ed arrivano i tecnici. Devono arrivare i tecnici per realizzare la riforma delle pensioni con il consenso delle organizzazioni sindacali e la riforma viene realizzata con una legge, la 335 del 95, che accoglie le principali richieste sindacali e porta al parziale passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo. Eccoci quindi al centro del nostro escurso, sul quinto oggetto. Il modello concertativo è chiamato ad una nuova prova quando con le elezioni del 1996 la crisi alle porte, il quadro politico economico appunto si complica. Saranno ricordati o potremmo ricordare come gli anni dell'austerity. La disoccupazione galoppante e la crescita e la sicuramente influenza dell'ordinamento comunitario nel nostro ordinamento ci impongono una nuova stagione di riforme e soprattutto impongono una nuova e pesante finanziaria di risanamento. Come ho detto prima parliamo di austerity, una madre che avrà molti molti figli. Con la legge 196 del 97, notta appunto con l'appellativo di pacchetto treu, l'attuale presidente da Cnel vuole svecchiare il mercato del lavoro italiano. Ecco così che debutta il lavoro interinale, termina il monopolio pubblico del collocamento, compaiono nuove modalità per la gestione del rapporto eh di lavoro. Aumenta l'incentivazione al part time e ritorna l'attenzione sulle modalità di transizione dalla scuola al lavoro attraverso una eh revisione di quelli che erano apprendistato e tirocinio. Storicamente è il primo provvedimento di riforma del mercato del lavoro che non si ferma alle misure di difesa del contraente debole, il lavoratore, attende a tutelare o perlomeno a porre in maggior risalto il rispetto di quello forte, l'impresa. È una norma che rompe un argine, ovvero flessibilizza il rapporto di lavoro soprattutto in entrata con lo scopo di generare occupazione e rendere i sistemi produttivi più competitivi. D'altronde siamo in un contesto di allargamento delle dimensioni globali dei mercati caratterizzati da importanti variabili del costo del lavoro. La versione italiana delle riforme già applicate in Nord Europa e basate eh sul concetto di Flex Security. A fine a fine anni novanta il monopolio eh se non altro simbolico del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato si può dire definitivamente deposto. In favore dell'entrata eh in scena e dell'emergere in massa di figure contrattuali cosiddette atipiche. Si viene raccontato che diventeremo il paese di Ben Godi con un mercato del lavoro più dinamico in nome dei mille lavoretti. In effetti in quell'anno e fino al 2001 sempre secondo l'Istat il tasso di occupazione salì di un paio di punti e quello di disoccupazione diminuì dall'undici al nove per cento ma fu un fuoco fu un fuoco di paglia. Sempre in quell'anno è sempre nel novanta nel novantasette che nasce in seno al Consiglio d'Europa il Consiglio straordinario d'Europa del Lussemburgo la famigerata strategia europea per l'occupazione con l'obiettivo dichiarato alla lotta eh appunto alla disoccupazione all'aumento della produttività e della qualità eh del lavoro. La SEO si fonda su quattro parole d'ordine occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità. Si parla di eccessiva rigidità del mercato del lavoro, dei troppi diritti dei lavoratori e così facendo intende escludono un gran numero di persone. in tale contesto nasce la necessità di sempre maggiore flessibilità in entrata e in uscita, di diversificazione delle tipologie contrattuali, per sintetizzare in poche parole maggiore flessibilità e facilità di licenziamento. È così in questo contesto che compare il nostro sesto oggetto, uno che vale doppio, il libro bianco e la legge 30. All'inizio del nuovo millennio si apre una nuova stagione per la legislazione sul lavoro. Vengono ulteriormente liberalizzati i contratti a termine, allargando la stretta maglia delle possibili causali del contratto. Bastano due o tre mesi per vedere arrivare il tristemente noto libro bianco, siamo nel 2001, è coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi, un libro dei desideri liberamente tratto appunto dalla strategia europea per l'occupazione di cui abbiamo parlato poc'anti, di cui tra l'altro viene fatto espressamente citazione nel testo. La legge Biagi, ricordata come la legge 30, entra in vigore nel febbraio 2003 e porterà avanti con ancora più decisione l'opera di rinnovamento del mercato del lavoro iniziata dalla legge 196 di Treu. Questa legge, anzi questa riforma, servì a certificare normativamente tutte quelle nuove tipologie contrattuali di un gran numero di lavoratori coinvolti in attività difficilmente regolabili con gli strumenti presenti nel diritto del lavoro prima degli anni 90. E per far questo la riforma Biagi rispetto allo statuto dei lavoratori ridusse drasticamente diritti e tutele e le possibilità di intervento della magistratura nelle questioni contrattuali. Pensi alla certificazione dei contratti di lavoro, alla stessa limitazione della riqualificazione del contratto nell'ambito della parasubordinazione, quali sono quali appunto i COCOCO, i COCOPRO. Viene data, viene ampliata la posizione tutoriale, ancora in maniera più significativa, dei sindacati comparativamente più rappresentativi. Parliamo allora, parliamo a questo punto ancora un po' di sindacato. L'accordo, l'accordo interconfederale del giugno del 2011 è il nostro settimo oggetto, la pietà tombale sull'idea di conflitto che viene bandito per legge. Le parti sociali hanno la loro disponibilità ad una riforma del sistema delle relazioni industriali in cui la contrattazione decentrata acquista un ruolo di primo. Questo passaggio inoltre merita senza dubbio di essere ricordato nel nostro pur rapido escursus perché apre la possibilità alla contrattazione e derogare in PEIUS la normativa nazionale dei contratti collettivi. Insomma, a fine 2011, in piedi della crisi economica, arriva un governo dei tecnici. Dopo un primissimo intervento dedicato ai conti pubblici, alle pensioni, il governo dedica molta attenzione ai temi del lavoro. Che cosa accade? L'effetto di questa riforma fu tutt'altro che un successo ai dati Istat, lo certificano un'altra volta. La disoccupazione crebbe di due punti in due anni e il tasso di disoccupazione, anzi il tasso di occupazione scese di oltre un punto. La disoccupazione giovanile salì dal 35% del 2012 a oltre il 42% del 2014 e divenne argomento di discussione il problema della inattività dei giovani, quelli che non studiano, non cercano e non cercano lavoro, i famosi NIT. Facciamo un passo successivo. Per questo nostro oggetto, ottavo oggetto, le pensioni, può essere presa ad esempio e a riferimento la legge riconosciuta come la riforma Fornero. Molti sono stati passaggi però che negli anni hanno portato a modificazioni o a riforme vere e proprie del sistema pensionistico. Dobbiamo ricordarci Amato nel 92 e con l'innalzamento graduale dell'età pensionabile. Fini nel 95 con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo e l'istituzione di quella che è conosciuta ormai come la gestione separata. Maroni con l'invenzione, con diciamo l'istituzione delle quote per le pensioni di anzianità. O Sacconi ancora nel 2010 con le finestre immobili. Tutto questo da allontanare e smagrire il traguardo pensionistico dei lavoratori. La draconiana riforma Fornero d'altronde portata con la manovra Salva Italia dal governo Monti cambia, come ho detto all'inizio, il panorama previdenziale. Prende il via un nuovo sistema di calcolo che estende il metodo contributivo prorata a tutti i lavoratori. Eccoci infine alla ciliegina sulla torta, il nostro ultimo e non oggetto, il Job Act. A questo punto non ci dovrebbe stupire se la prima preoccupazione dei tecnici, quei tecnici deputati a impostare gli interventi lavoristici del governo Reims nel lontano 2012, fu quella di liberare i potenziali di crescita occupazionale, dicono loro, dissero loro appunto dalla cappa sul mercato del lavoro, rappresentata dagli ultimi lacciuoli della precedente riforma del 2012. Non a caso appunto il primo intervento di quello esecutivo fu proprio in tema di contratti a termine. Quelle stesse appunto misure sul contratto a termine servirono per preparare il campo a quella che lo stesso Premier Renzi, terminato il suo mandato, ha definito la sua principale riforma, il suo maggior successo, ovvero il Job Act. Lì dentro troviamo il riordino degli ammortizzatori sociali dopo la perdita del posto di lavoro, la regolazione del nuovo contratto a tempo indeterminato, quello a tutte le crescenti, quello che ha, ricordiamoci bene, comportato il superamento per svuotamento e non per abrograzione dell'articolo 18. Poi abbiamo il riordino delle tipologie contrattuali, la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la semplificazione dei servizi ispettivi, nonché la rimodulazione delle politiche attive del lavoro con la creazione dell'AMPAL, con tutte le semplificazioni annesse a queste pratiche burocratiche. Queste quindi, e vado a concludere, sono alcune delle vicende che hanno insistito sulla politica economica italiana, sul tessuto sociale, sul vissuto di tutti. Mi chiedo, avremmo dovuto utilizzare altri strumenti, oppure avremmo potuto utilizzare quegli stessi strumenti in modo diverso? Noi crediamo assolutamente di sì. Quegli strumenti potevano essere usati in maniera diversa e altri strumenti potevano essere, entrare in campo. Però, giocando di sponda con l'Europa e demandando ad essa un mucchio di cose, e tutti avremmo sentito la famosa frase, ce lo chiede l'Europa, sono state fatte delle scelte. Nei momenti cruciali sono stati fatti forse quei salti nel vuoto, come dice modi nel suo libro, nel suo recente libro. Abbiamo abolito i confini, rinunciato ai dazzi doganali, contribuito ad istituire un mercato comune, fondato un diritto comunitario intorno a una moneta. È stata data forma particolare a un apparato istituzionale che soggiace a precisi rapporti di forza. Abbiamo scelto chi e che cosa difendere, chi e cosa sacrificare. Pensavamo che il nostro paese ne tresse vantaggio probabilmente. Se questi sono i risultati, il nostro allora non è stato un agire proficuo. Oppure potremmo dire che è stato il semplice comportamento frutto di una sottomissione a dei poteri, al potere degli altri stati. Passo il testimone quindi con queste domande e lascio il filo del ragionamento a Maurizio Zenettini che avrà altre cose da raccontarci. Lascio a te la parola Maurizio. Va bene. Grazie Ivan. Temo che il titolo del mio intervento sia fuorviante e dopo l'intervento di Ivan probabilmente inutile. Tu hai raccontato molto bene le politiche del lavoro che hanno caratterizzato una lunga epoca della nostra storia. Allora io vorrei provare non tanto a raccontare un'altra storia, ma fare un controcanto agli interventi che abbiamo sentito oggi e la settimana scorsa e quella precedente. C'è un'idea di fondo a me pare di quegli interventi che vorrei riassumere per poi prendere quel punto di partenza e una riflessione più generale. C'è uno spartiacque che ricordava Riccardo la settimana scorsa. Negli anni 80, 80, 90, le separazioni temporali non sono come i confini. Sai che sei in Francia ma lo sai quando ci sei. Però c'è una separazione, una cesura temporale. Dopo quella data è stata una successione di interventi, a volte accelerata, a volte rallentata, spesso confusa, qualche volta avanvera, ma il punto di assenuare è che c'è una continuità di quegli orientamenti. Allora io voglio richiamare questo aspetto mostrando che questa continuità non è tanto nelle intenzioni o nelle ragioni dichiarate o vere, ma nei risultati. Alla fine la politica economica non è una branca della filosofia morale. Si misura sui risultati, non sulle intenzioni. Allora le intenzioni, quali che fossero, alla fine hanno prodotto un paesaggio di rovine, come ricordava Ivan. Quindi richiamerò rapidamente alcuni punti di questo. Dopodiché mi chiedo, l'Europa, che è un po' il comitato di Pietro, non è sempre come dire, no? Ecco, in che modo riusciamo a integrare l'Europa in questa storia? Ecco, allora questo è quello che tenterei appunto. Guardate, non è una, chiaramente il tempo è quello che è, non intendo fornire una diagnosi completa, non è alla mia portata, ma piuttosto qualche pista di riflessione per mettere insieme due oggetti per usare la tecnologia di Ivory. Un oggetto è l'elefante nella stanza, cioè il lavoro italiano che abbiamo costruito in questi anni. E l'altro è l'Europa. Quindi come li facciamo a combinare? Allora, richiamo rapidamente quei due o tre aspetti che sono, che in qualche modo in cui si fissano le politiche di lungo periodo. E sono cose che sappiamo. una straordinaria redistribuzione dal lavoro al profitto. In Italia la quota salari era circa il 64% tra gli anni 60 e gli anni 80. Dopo 20 anni, dopo 30 anni, all'inizio degli anni 2000, è arrivata al 54, 16% in meno. Ora 16% è una cifra immensa, perché oggi abbiamo 60%, ma anche ieri, anche altro ieri. Quindi se sommate, se sommate ogni anno quello che si è trasferito dal lavoro al capitale, è una cifra spaventosa. Qualche anno fa un'ecovista del lavoro, molto bravo, ha fatto una somma, ma la somma arrivava al 2008. Beh, sono 100 miliardi di euro all'anno tra l'ottante e il 2010. 100 miliardi di euro che Robin Hood a rovesci ha creato dal lavoratore alla rendita al profitto. È un bel risultato. Tu dicevi Ivan, è un risultato, non so se volevano questo, ma in ogni caso questo è quello che è venuto fuori, no? Qualche vostra intenzione. Quindi questo è un punto. Il secondo punto è l'occupazione. Tra gli anni 70 e gli anni 80 l'occupazione in termini di unità di lavoro e i dati ISTAT aumenta di circa 3 milioni e 200 milioni di unità. Sono le occupazioni veri, i posti di lavoro, non le unità di lavoro. Tra il 1990 e oggi l'aumento è stato posto di 200 milioni di unità in 30 anni, ma con grandi flutuazioni, aumenti poi cadute, riprese con l'occupazione peggiore e peggio pagata. Quindi un mercato del lavoro ottocentesco, instabile e con pochi risultati, lo disevito Ivan. Questo attivismo riformatore alla fine ha prodotto, come dire io, no, non tutto niente. E poi la disoccupazione. C'è una cifra impressionante. Nell'ultimi trent'anni in Italia la situazione è stata pari del 9%. Il 9% ogni anno in media hai creato, hai fatto riforme, hai fatto di tutto, su di tutto. Berlusconi, tecnici, hai fatto un teatro meraviglioso, ma alla fine, in media ogni anno, ho conversione di occupazione. Quindi, vuol dire, si potrebbe fare peggio forse, ma è difficile immaginare come, no? E poi, a fianco a questo, hai, come dire, le politiche economiche che tu hai ricordato in alcuni aspetti. Ma io voglio ricordare uno aspetto che in qualche modo ha a che fare direttamente con le cose di vita che Ivan ricordava. Prendiamo un aspetto, poi lo riprenderò alla fine. La prima fiscale. Nel 72 c'erano in Italia 42, scusate, mi sono dimenticato, ma insomma la testa è quella che è, insomma. C'erano 32 aliquote fiscali, forse 42, insomma tante, scusate, ma non voglio dare con l'informazione sbagliata. C'erano 32 aliquote fiscali. La più bassa, il primo scaglione, era tassato al 10%, il più alto al 72%. Oggi, dopo la riforma Draghi, il più basso è tassato al 23% e il più alto al 43%. Allora, vuol dire, questo racconta, come dire, una straordinaria continuità di orientamenti, no? Che hanno creato un paesaggio, diciamo, di rovine. Il Corriere della Sera, due mesi fa, pubblicava un articolo, diceva, povertà, disoccupazione, lavoro precario, salari basse. Vuol dire, qualunque, vuol dire, non è questo che ci promettevano, ma questo è quello che è avvenuto, no? Quindi questo è il punto di partenza. Quello spartiacque ha messo in moto una storia il cui esito è oggi questo. Bene, questo è il punto. Allora, come entra in questa vicenda il fattore Europa? Allora, c'erano due modi di raccontare questa combinazione. Il primo è il più ovvio, è quello che ricordava anche Ivan, cioè l'Europa, come dire, qualunque cosa sia non è un oggetto sul quale nutrire illusioni. Allora, proprio sul tema dell'occupazione, tu hai ricordato l'astasia europea dell'occupazione, ma era già fallita nei primi anni 2000, no? Ma tra il 2011 e il 2019 la Commissione europea ha inviato ai paesi 300 raccomandazioni, tagliare le pensioni, i salari, di aumentare la possibilità, no? Quindi un voto arcigno dell'Europa, un voto arcigno che in qualche modo, come dire, ha fatto da contraltare alle scelte del nostro paese. Nel 2010 l'Europa immagina un programma di riduzione della povertà. 20 milioni di poveri in meno nel 2020. Lasciamo stare la pandemia, ma già nel 2019 i poveri erano di più. Il progetto è fallito, no? E poi, siccome le parole a volte hanno un significato, come diceva Ivan, allora ricordiamo quella di Angela Merkel, quando diventa cancelliere, dice qual è, come dire, l'orientamento, no? Della governance europea. dice, disse, gli europei sono il 5% con lo sociale mondiale, hanno un quarto del PIL e la metà della stesa sociale. Quindi, da qualche parte dobbiamo tagliare. Quindi, no? Siamo troppo generosi. Angela Merkel, che cosa era, come dire, una persona, no? Ecco. Quindi, se metti insieme questa cosa qua, è un'immagine dell'Europa sulla quale, certamente, come dire, la sinistra, non si fa molte illusioni, no? Quindi, questo, come dire, è il modo più ovvio di raccontare una combinazione, no? 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 Però, come dire, questo non è tutta la storia e non è neanche forse la parte, certamente, è importante intendere l'Europa in questo modo, al di là delle fiabe, no? La retorica. Ma c'è un altro aspetto su cui vorrei chiamare, che in qualche modo faceva anche il capolino delle parole di Ivan, e cioè c'è un altro modo di trattare il rapporto tra politica economica europea e italiana, che, io credo, negli anni scorsi è stato motivo di equivoci, è stata fuorviante. Cioè, noi tendiamo a rappresentare l'Europa come qualcosa che sta là fuori. Allora, agli eurofili, l'Europa ci salva, l'Europa è la fatina turchese che ci guida, oppure agli eurosettici, no? L'Europa è mangiafuoco. Ma queste due narrazioni condividono un punto di vista. Cioè, l'Europa è qualcosa da fuori, no? Un potere, no? Un oscuro trasparente, no? Dipende da come lo guardiamo. Naturalmente, entrambe queste posizioni poi hanno delle fumature, Fatina Turchese, il mio parlante, Lucigno, però, come dire, tutte condividono quest'idea che sta là fuori, no? Allora, io credo che questa antinomia, questa dicotomia sia fuorviante. Penso che sia sbagliata. Dirò perché sbagliata. Perché, come dire, ci impedisce di capire, come dire, quale sono il che fare. E ci dà, molto spesso, delle soluzioni semplicistiche, delle vie d'uscita accidenti. Non sento più, no, si sente, ma io non ho dovuto cambiare perché non funziona più l'auricolare. Bene, allora, perché penso che questa dicotomia sia fuorviante? Indico tre ragioni. La prima, e che poi la ricordava anche Eva, la ricordava anche Fabio nella sua prima, c'è una tendenza generale. Quando raccontiamo la storia dell'Italia dagli anni Ottanta ad oggi, di uno spappolamento del mercato del lavoro, noi raccontiamo una storia generale. Non è solamente l'Italia, non è solamente l'Europa. L'Italia non è un'isola, però non è un'isola. Alcuni dei fondi, due economisti autorevoli americani, Lorenz Summer e Bol, presentavano un rapporto al presidente Obama e qui dicevano questo, le nostre democrazie non sono più in grado di garantire a grandi masse di popolazione una condizione di vita migliori e dignitosa. Ma questo era negli Stati Uniti, no? E faceva un'analisi di diversi paesi, c'era Luggerlanda, Canada, no? Quindi noi non siamo un'isola, le cose possono andare a volte peggio, a volte meglio, ma insomma, quindi non c'è là fuori un'Europa, no? Noi è un mondo senza glutine, no? È lo stesso mondo in cui viviamo, no? Guardate, vuol dire, sta dicendo una cosa ovvia, però guardate, è importante questo, perché abbiamo spesso accettato del neoliberismo, no? Europa, ma c'è una chiave di lettura per la sinistra, recuperare l'idea di capitalismo. Io ricordo, siccome appunto nelle mie precedenti avete provato a mettere insieme il clima culturale di un'epoca e le politiche, beh, voi avete visto forse il film coreano Parasite, e il regista gli è stato chiesto come mai questo film ha avuto un'eco così importante, ha così risuonato nei cuori delle persone. Beh, lui ha detto, guardate, perché in tutto il mondo le persone abitano nello stesso paese, senza confini e questo paese si chiama capitalismo. Allora, proviamo, come dire, a recuperare un'alisi strutturale, se posso dirlo marxista, no? E quindi vedere l'Europa come una parte, un attore in una commedia che, come le riguarda anche lei, no? Per dire, abbiamo, Ivan ha ricordato il degrado del settore industriale italiano, lo sappiamo, però vi voglio ricordare, l'Europa, nonostante, come dire, la retorica sul mercato unico e bla bla, nel 2000 c'era in Europa il 41% delle grandi imprese, ce ne sono oggi il 15%. Anche l'Europa, naturalmente l'Europa non è una cosa, non è un oggetto compatto, ma anche l'Europa in qualche modo condivide, magari in posizione, noi siamo nel sedile posteriore, l'Europa magari, però, come dire, è un processo generale. Se noi comprendiamo questo, forse, come dire, riusciamo a capire le forze di fondo che hanno guidato i processi che avete ricordato, del senatore Presidente e anche Ivan. Questo è il primo punto, molto generale, ma il secondo, invece, più specifico riguarda di cosa parliamo quando parliamo di Europa. Parliamo di una governance basata su regole. Allora, qui, come dire, so che non è soltanto questo, so che ci sono, come dire, processi profondi, però è anche questo, tendiamo spesso a dimenticare questo, quando pensiamo l'Europa come un potere, un molo con un golem là fuori, no? Guardate, la Governa sono istituzioni europee, ma quali sono? La Commissione europea, l'unico commissario che in qualche modo ha avuto un certo peso nella vicenda europea degli ultimi trent'anni è stato Jacques Delors, che è, come dire, l'origine dell'Europa di oggi, ma poi abbiamo avuto delle mesi calzette. La Von der Leyen è una, vuol dire, una traffichina che è stata presa con le mani a marvellata quando ha messo la difesa Germania. Juncker è il politico che ha la più lunga durata, è una, come non lo toccate, è in politica da 40 anni, no? Ha trafficato quello che è la duca di Luxemburgo, beve, no? Insomma, vuol dire, è una figuretta. Primo di lui c'era Barroso, ha dieci anni, ma qui è caratteristico di... Era maoista, è diventato Goldman Sachs, no? E prima c'era Prodi, ma Prodi è stato mandato lì perché D'Alema era mandato fuori dal governo, no? Una specie di preme di consolazione, no? La famosa commissione, il Golem, no? Prodi non ha lasciato, come dire, una grande impressione, no? Non ha... ecco. Però, insomma, ecco. E prima di lui c'è stata una commissione che si è dovuta dimettere per i scandali, no? Quindi questa famosa commissione, come dire, no? Cerchiamo di capire che cos'è. Invece, importante è il Consiglio Europeo. Da diversi anni, diciamo, dagli anni novanti il Consiglio Europeo è il vero Agenda 7, quello che è pensato all'Agenda 7. Ma cos'è il Consiglio Europeo? Non è altro che il, come dire, il Consiglio dell'Istituzione dell'Europa, ma sono i capi di Stato. I capi di Stato. Non è una cosa che sta fuori. È un luogo di negoziazione conflittuale, in cui il Paese, come dire, è un ring, no? E guardate che, come dire, per capire, no? Quando, diciamo, ce lo chiede l'Europa, l'Europa non ci chiede niente, no? L'Europa non ci chiede niente, perché l'Europa, come dire, oltre ad essere geografica, è una serie di strutture, che sono strutture, i conflitti dei Paesi e dei Piagliari si rappresentano. Vi raccomando, due esempi soltanto. Nel 2003, ricordate che Prodi avviò una politica di una misura, di una procedura di infrazione contro la Francia e le Germania, che avevano sforato i parametri di Matrix, no? Per il deficit, no? Ricordate? No? Il Consiglio Europeo bloccò questa cosa qua, no? Berlusconi, che era il Consiglio Europeo, l'eseridente, approvò la Francia e la Germania. Allora era chinesiano Berlusconi. E Prodi fece ricorso alla Corte Europea di Giustizia, no? Che bocciò la delibera del Consiglio Europeo perché era formalmente imprecisa. Ma poi non successe niente, no? Ecco, quindi che, vuol dire, le regole sono le eccezioni. Guardate, quando parliamo di regole che ci chiudono, dobbiamo non dimenticare che abbiamo i paesi euro, 14 paesi euro, dal 99 al 2019, quindi senza il 2000, la pandemia o meno. Abbiamo quindi 14 paesi per 20 anni, quindi abbiamo tanti casi anni. Ebbene, nel 45% dei casi è stato violato il parametro del deficit e nel 70% di 8% il parametro del debito pubblico, no? Quindi ci sono le regole ma anche le eccezioni. Quindi quelle che chiamo regole, che in qualche modo, come dire, ci costringono, sono il risultato di negoziazioni conflittuali, no? Allora il problema è vero, non è che c'è un'Europa là fuori che ci impone, no? Il problema è, la domanda vera, a cui non ho una risposta, sicuramente non rispondo a sera, è negoziare nella rete nazionale si fa meglio quando sei fuori, tra l'altro il bottone quando sei dentro, no? Ecco, quindi chi propone, anche con ragione, con raccordamenti seri, attenzione, l'Europa in qualche modo è una gabbia, sì, ma devi dirmi che cosa vuol dire, no? Come mai, la domanda è no, come mai tutti i paesi, pur, come dire, criticando gli ordini internazionali, fondamentali, banca mondiale, come è che tutti i paesi vogliono partecipare? Quindi per qualche ragione, non sempre una buona ragione, ma per qualche ragione, ci ritiene che, come dire, è meglio esserci che non esserci, no? Poi se sia giusto, guardate, non voglio rispondere a questo, però c'è un problema, la domanda vera non è l'Europa è là fuori, noi siamo dentro questo processo qua, no? Il problema è quindi in che modo siamo dentro e siamo fuori, cosa vuol dire, no? Ecco, questa è la domanda vera, no? Quindi affrontare, se volete, il problema dell'Europa non in termini di fiave europee, del work in proghi verso uno superstato, ma in termini della realpolitik, del realismo politico. Questo, come dire, è molto più faticoso e certamente meno gratificante. Non ci sono degli oggetti chiari là fuori che no, sono, come dire, spazi conflittuali, no? Esattamente come sono stati i spazi conflittuali quando l'Italia non era, quando l'Europa non era quella di oggi, no? No, no? Guardate, ad esempio, il modo in cui l'Europa sta affrontando il problema, abbiamo detto prima il caso di Prodino, ma guardate il modo in cui l'Europa sta affrontando il problema della guerra, è nato, eccetera, no? Ci sono degli interessi nazionali in qualche modo, no? O guardate l'ultima decisione che il Consiglio europeo, la Commissione, sul Green Deal, no? Alcuni paesi come Austria, Olanda, Finlandia, hanno respinto, no? e quindi hanno respinto l'idea che il nucleare sia una cosa, no? E propongono di fare ricorso alla Corte di Giustizia, no? Quindi vedete, ci sono dei conflitti, no? Quindi la domanda vera non è appunto rappresentare l'Europa come qualche cosa che ci vincola. L'idea è che tipo di vincolo ho e quale vincolo non avrei se non accettassi questo gioco, no? Non ho una risposta. Probabilmente sarebbe meglio non fare parte di questo consesso, no? Però la domanda vera è questa, non immaginare delle dicotomie come dire che sono le scorciatoie, perché vedete il punto, guardate, ecco, ecco, ad esempio, un problema che ha a che fare con il tema è il problema dei vincoli, no? è il parametri, no? Ho già detto prima che i vincoli in realtà sono anche delle eccezioni, no? Se noi contiamo anche gli ultimi due anni, il 2020 e il 2021, il numero delle eccezioni comincia a essere il punto più numeroso delle regole, no? Però c'è un equivoco che in qualche modo emerge quando noi rappresentiamo il nostro rapporto con l'Europa come un rapporto, come dire, con una realtà esterna che ci vincola. Questo è vero, ci sono i parametri perché questo è ovvio, ma la domanda vera non è no, chi sono i vincoli, no? Il problema è quale tipo di spazio e manovra avrei senza quei vincoli? Allora, questa non è una domanda come dire che ha una risposta ovvia perché ad esempio si dice molto spesso non ho la stranità monetaria, va bene, si dice però il Giappone, il Giappone ce l'ha, d'accordo, però ad esempio prendiamo l'effetto sulla crescita, il Giappone non è cresciuto, è cresciuto meno dell'Italia nel 2020 anni, no? Quindi se la solidità monetaria è qualcosa che mi permette di crescere più, beh, un altro esempio, gli Stati Uniti hanno una solidità monetaria, possono fare quello che vogliono, però se vado a vedere come hanno reagito alla crisi del 2008-2009, Obama ha fatto una politica fiscale più restrittiva anche dell'Italia, se guardiamo la dinamica della spesa dei consumi pubblici, no? Eppure, no? Quindi voglio dire, la Svezia non è nell'euro però ha un suppo di bilancio, no? Quindi è ovvio che a partecipare a un organismo come l'Europa ci può dei vincoli, no? Questi vincoli noi vediamo che in qualche modo ci limitano, è ovvio, ma il problema vero non è che ci, no? Il problema è qual è il contrafattuale, no? No? Allora, probabilmente il contrafattuale è salti per aria l'Europa. Volevo dire, se l'Europa salta per aria non è che io mi metto a piange, no? Vediamo, i sistemi saltono per aria, no? Quindi, però la domanda vera è qual è il, quale spazio di manovra recupero veramente, no? E probabilmente io lo dico, come dire, in modo anche provocatorio, non sono necessariamente quelli spazi di manovra che molto spesso nel discorso appaiono come leve che io posso manovrare. Nell'Europa non manovro leve, fuori manovra. Guardate, qui, questo discorso potrebbe essere, però, io non sono tanto convinto che ci siano queste leve, siano molto, caso di cambio, monete. Sono certi importanti per Kaito, ma voglio, per capire quanto sono importanti e quanto potrebbero essere utilizzati in un contesto, vuol dire, no, in Europa senza, no, ecco, è chiaro il punto, Quindi, dire che sono dei vincoli in qualche modo è ovvio, ma non è questo il punto rilevante, qual è il contrafattuale, che cosa posso fare con questo momento una volta che li ho recuperati, no? Allora, le risposte sono difficili, io non ce le ho, però, respingere questa antinomia così radicale e così forviante, serve, dovrebbe servirci a porre domande giuste, non a immaginare delle scorciatoie. Ecco, l'ultimo punto, questo è un po' il secondo punto, quindi, vedere l'Europa per quello che è, non come, come dire, no? Né, come dire, la fatina turchese né il mostro di, no? Vedere per quello che è, no? Quindi uno spazio convettuale che, no? Che chiaramente, come dire, non, quindi questo è il punto, ma l'ultimo punto è per me il più importante, cioè, quando Ivan ci ha raccontato lo sviluppo delle politiche del lavoro, no? La domanda che mi face, ma chi ce l'ho fatto fare questo? È stata l'Europa? Forse. Ma c'era un'alternativa? Io dico sì. Non era inevitabile. Il Job Act non ce l'ha chiesto l'Europa. Potevamo anche non farlo. Questo bisogna essere chiare su questo, no? Perché? Perché? Perché molto spesso sono i governanti stessi che per le ragioni più varie, ma spesso per mala fede, hanno fatto appello all'Europa per giustificare scelte alle quali c'erano forse alternative, ma che essi non hanno dovuto contemplare. Voglio dire, è vero che tutti i passaggi del progetto, no? Tutti i passaggi che ha raccontato Ivan dagli anni Ottanta hanno, come dire, un contrattare dell'Europa, Lo SME, no? Maastricht, l'Euro, no? Però ogni volta, e questo è un punto che io enuncio senza, naturalmente così, in modo apoditico, ogni volta questi passaggi non hanno rappresentato una imposizione, ma uno strumento di polieconomica, no? Così come, no? Io uso uno strumento di polieconomica, le tasse, eccetera, io uso anche l'Europa. L'Europa è uno strumento. C'è un libro che io, che oggi è considerato, come dire, sorpassato, ma che io penso che sia ancora molto importante, un libro di Alan Milwar, che ha raccontato lo sviluppo dell'Europa, dal dopoguerra fino agli anni 80. La sua tesi era che l'Europa è sempre stata, come dire, uno strumento che i paesi hanno usato, a volte male, a volte bene, dipende anche da quanta tela hai da tessere, no? Se sei un politico scadente perderai, no? Però guardo l'Europa come uno strumento di politica, esattamente come il Job Act, eccetera, no? E allora, perché dico questo? perché se noi accettiamo questo punto di vista, cioè l'Europa come uno strumento, non come qualcosa che ci detta una teleologia senza scampo, beh, noi abbiamo il dovere di prenderci con i nostri nemici che sono intanto in casa, perché dirà appunto, no? Quando, quando, voglio dire, due punti per, no? era necessario fare la riforma fiscale che ha fatto Draghi, non era necessario, guardate, la Corte dei Conti l'ha fatta a pezzi, ha detto, guardate, il sistema fiscale italiano fa schifo, no? Fa schifo, è regressivo, no? Dà a chi non ha, a chi non ha bisogno, toglie a chi ha, e la Corte dei Conti ha anche ricordato, guardate, è un episodio piccolo, no? noi abbiamo abusato in questi anni dei famosi bonus fiscali, Detrazioni, ora guardate, le detrazioni e le esuzioni portano via 50 miliardi ogni anno di imposta diretta. Allora, ma a chi vanno questi soldi? Nel 2009, il circa il 7% dei contribuenti hanno fatto ricorso a questi bonus. nell'ultimo anno ci ha dato la Corte dei Conti un quarto dei contribuenti ha fatto ricorso e sono per la più i contribuenti ad alto reddito. Allora, è necessario questo? No? Chi ha costretto questo governo di unità nazionale a trattare così male le persone che governano poco? Perché a dare un bonus anche ai benestanti, no? Ok? Allora, dire che l'Europa ho detto nessuna illusione sull'Europa, no? Però neanche, come dire, nessun alibi ai governanti che guardate vi ricordo due episodi due episodi che sono tre episodi che sono davvero io credo mostrano come dire in che modo l'Europa è usata molto spesso come un alibi per governanti malafede. Quando ci fu il governo Monti che Ivan ha ricordato, no? Poi lo ricordate il governo Monti era lì per salvare il paese, no? Qualche l'anno dopo cosa ha detto Monti? Si è messo a singhiozzare ahi no il fiscal compact è stato Draghi che ce lo ha imposto sul mandato del Berlino. Allora, voglio dire, capite che qui come dire questo qui è quasi Novak c'è una grande e poi cosa ha fatto Juncker dopo che hanno strappassato la Grecia ha detto sì ma è stato il fondo monetario che ci ha costretto a fare vedete noi l'Europa lui il fondo monetario e oggi Mattarella ha detto una cosa che io gli dico ha detto vi cito poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi aggirando il processo democratico dopo che è successo questo l'anno scorso dopo che ha fatto fare il governo Draghi no? ok? Allora voi capite dobbiamo stare molto attenti a come dire a accreditare questa visione che oramai questa visione è stata come dire acquisita decidi dirigenti come una giustificazione da un lato no? Prima era come dire l'Europa è buona ora l'Europa come dire ci costringe però in nessuno dei casi non è vero no? C'è una responsabilità precisa c'è un margine di manovra ancorché piccolo che non è stato sfruttato no? Beh allora questo è il punto no? Quindi no? Quindi la mia idea è ragioniamo su questo evitando noi le scorciatoie per non darle che ci governa quindi questo è un po' come dire il punto naturalmente è chiaro ognuno di questi punti è una pista di riflessione nessuno di questi punti lo riconosco è sviluppato come metterebbe però come dire da un lato la idea strutturale riconoscere Italia Europa come parte di un processo globale no? Quindi evitare di immaginare no? che là fuori ci sia un'Europa cattiva no? non ci sono modelli esemplari non c'è il Giappone non c'è la Svezia ogni paese ha la sua storia le sue caratteristiche no? però certamente non ci sono modelli esemplari perché hanno la possibilità di usare quelle leve che non abbiamo se lo sono per qualche altra ragione cerchiamo di capire qual è non è facile ma non il scorciatoio la Svezia ha il tasso di cambio noi no ma quanto spesso l'ha usato e come l'ha usato questa è una domanda vera dopodiché il Giappone ha la Svezia monetaria però è in crisi da 30 anni no? quindi il secondo punto è l'Europa è questa cosa qua no? è un 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 caos organizzato no? quindi è meglio sapere con chi ha a che fare no? no? ecco e l'ultimo punto è il rischio che è diventato certezza che questo appello come dire a qualche a qualche no dimensione esterna golem abbia funzioni come ehm alibi io qui per chiudere cito una frase di Federico Caffè che è un grande economista diceva c'è una tradizione in Italia di governanti italiani di invocare lo straniero per sciogliere i nodi domestici i piemontesi che chiedono al al re di Francia di dargli una mano gli inglesi che aiutano ecco allora proviamo proviamo a capire no? no? non sono solamente proconsi i nostri governanti sono persone che hanno immagini di manovra piccolo o grande inchiodiamoli su questo non diamo nessun alibi a questi no? neanche quello l'idea di un potere è una persona molto grave perché o è vero o non è vero se è vero devi fare qualche cosa non puoi evocare una minaccia se non è vero allora siamo io penso che probabilmente ci sono però se non è vero allora è un alibi la politica in questi anni che ha fatto le cose che ha detto Ivan ha prodotto i risultati che abbiamo visto oggi è in cerca di alibi dobbiamo demistificare la teoria come il mainstream ma anche togliere alibi che ci governa inchiodarli sulla responsabilità quindi nessun alibi neanche l'alibi dell'uomo nero che sta là fuori Bene, grazie professor Zinezzini e grazie anche Ivan Volpi per la sua relazione e adesso non so se Fabio abbiamo ancora magari qualche minuto se hai qualche domanda da fare ai due relatori diciamo una domanda da porre a Ivan e qualche considerazione in riferimento a quello che ha detto Maurizio fino a un attimo fa allora beh la domanda che vorrei porre a Ivan è la seguente allora lui ha citato l'indice di protezione del lavoro questo indice che è stato pensato dall'Opse e che ci dice sostanzialmente che il nostro paese in una scala dal 0 a 5 dove 0 è la massima precarietà flessibilità dei rapporti di lavoro e 5 è la massima garanzia è passato se non ricordo male vado a memoria in materia di non sbagliarmi dal 3.8 del 90 al 2.2 pre-job act quindi insomma si presuppone che dopo sia addirittura scesa ora la domanda che io vorrei porre a Ivan è la seguente come mai diciamo dalla metà degli anni 90 i nostri governanti hanno sentito sempre di più questa esigenza di precarizzare i rapporti di lavoro insomma un percorso che come ci hai raccontato tu come ci hai ricordato molto bene anche Maurizio ha prodotto degli effetti devastanti ormai la correlazione maggiore flessibilità tendenza verso la piena occupazione è stata così smentita dai fatti che neanche il liberista più accanito è in grado di sostenerlo Ivan come mai dunque e arrivo proprio alla domanda proprio in quegli anni cioè sostanzialmente dalla metà degli anni 90 si è sentita forte questa esigenza grazie 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 Fabio beh diciamo per per rimanere come si dice in metafora insomma sono successe delle cose no? ovvero sia ci sono dei meccanismi che sono entrati in funzione proviamo a pensare appunto all'unione monetaria insomma quindi il riflesso nel momento in cui nel momento in cui come per utilizzare le logiche che ci ha espresso Maurizio appunto nel momento in cui entriamo i nostri governanti insomma si sono messi d'accordo e quindi siamo entrato in un'unione monetaria europea quindi abbiamo adottato dei cambi irrevocabilmente fissi gioco forte è successo che il mondo del lavoro è stato quello che ne ha pagato le conseguenze quindi la deflazione salariale è stata appunto come una logica conseguenza di di un sistema di un sistema così così adottato quindi le logiche le logiche del mercato che giocano con questi con queste secondo queste regole lì sono andate lì sono andate a colpire a colpire ecco quindi è stato diciamo quasi una una conseguenza necessaria appunto appunto le le regole del gioco così come sono state fissate così come sono state fissate regole che appunto come vogliamo appunto mi allaccio un po' al discorso di Maurizio Zenezini che sono state fatte è il libro di modi appunto a cui ho rifatto riferimento secondo me importante perché dice nelle sue prime parti appunto che sono stati fatti dei salti nel vuoto no quindi sono state fatte delle scelte senza sapere diciamo a che cosa questo avrebbe portato se questo avrebbe funzionato e quindi però gli effetti sono stati quelli che sono sugli occhi di tutti devo dire qualcosa io Fabio ti lascio la parola Fabio eccoci no volevo come dire ti ringrazio intanto Ivan per la risposta no volevo giusto fare qualche considerazione no in riferimento all'intervento di Maurizio poi magari ci confronteremo ancora beh allora partirei dicendo che condivido in maniera molto convinta una parte del ragionamento esposto da Maurizio quella in cui ha evidenziato le gravi gravissime responsabilità delle nostre classi dirigenti e anche il punto in cui ha affermato che questa Europa non è affatto una unione politica ma una sorta diciamo di arena al cui interno diciamo i paesi confliggono ma alla fine sappiamo bene vincono sempre i soliti insomma ecco su un aspetto a mio parere veramente importante direi fondamentale non sono non sono d'accordo con Maurizio e cerco diciamo di esporlo nella maniera più chiara possibile poi appunto eventualmente continueremo a confrontarci allora è verissimo quello che ha detto le eccezioni sono una sorta come dire di tratto distintivo di questa Europa alcuni paesi hanno sforato più volte il deficit nel corso degli anni una cosa effettivamente vera indiscutibile ma però io credo che ci siano eccezioni più significative diciamo rispetto ad altro che per certi versi sono definibili come cosmetiche cioè fare ottenere dalla commissione uno sforamento dello 0,2% di deficit certo è un'eccezione ma non è così significativa no? quelle più importanti guarda caso come dicevamo prima sono sempre garantite a quei paesi che se le possono permettere perché se le possono permettere? perché a livello europeo e come abbiamo detto ci sono rapporti di forza che però secondo me va a detto a chiare lettere sono cristallizzati da regole scritte nei trattati europei ecco regole che davvero sembrano fatte su misura per certi paesi regole e lo sottolineo con forza che possono essere cambiate solamente all'unanimità cioè se tutti i paesi membri accettano che quella regola venga venga cambiata o addirittura un trattato venga diciamo abrogato ecco perché diciamo per riprendere le parole di Maurizio l'Unione Europea come dire rappresenta sì uno spazio conflittuale ma esso è puramente apparenza è uno spazio conflittuale veramente apparente ad esempio tra le diverse eccezioni vorrei citare lo sforamento dei parametri che è stato fatto dai tedeschi per salvare le proprie banche e poi gli stessi tedeschi qualche anno dopo hanno spinto in maniera abbastanza significativa affinché venisse introdotto il Belin cioè non so se ci rendiamo conto ecco è di questo secondo me che stiamo parlando insomma voglio ancora essere più chiaro l'Unione Europea anche se evidentemente non è una unione politica questo mi sembra evidente esiste invece ed è più viva che mai e prova della sua esistenza ce la danno per l'appunto per l'appunto i trattati potremmo definirla una unione tecnocratica post-democratica su questo punto rimando a un libro che a mio avviso è veramente importantissimo scritto da Alessandro Somma post-politica dell'Unione Europea e dicevo è una sorta diciamo di unione tecnocratica post-democratica che i trattati legittimano legalmente e soprattutto connotano dal punto di vista ideologico per essere ancora più chiari l'Unione Europea ha un segno ideologico molto profondo che è esattamente opposto a quello espresso dalla nostra Costituzione la nostra Costituzione infatti riprendendo un celebre economista Minsky rappresenta come dire l'approdo di un lungo processo storico siamo infatti passati lo sappiamo molto bene diciamo l'abbiamo anche trattato quando abbiamo parlato degli anni settanta da un capitalismo diciamo che assegnava allo Stato un ruolo marginale in un contesto dominato dalla logica dell'asse fair e dal vincolo imposto dal sistema aureo vi ricorderete a una forma di capitalismo cosiddetto interventista nel quale appunto a parole dello stesso economista Minsky lo Stato aveva un ruolo rilevante e significativo grazie all'azione della banca della banca centrale appunto queste parole se non ricordo male le troviamo in una relazione che Minsky propose in un convegno nel 93 a Milano una forma dicevo di capitalismo quella promossa dalla nostra Costituzione che mette tra i principi fondamentali il diritto al lavoro cioè l'obiettivo della piena occupazione pensiamo ad esempio all'articolo 4 in cui si può leggere che la Repubblica la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni affinché appunto questo diritto possa essere realizzato ma non solo il diritto al lavoro anche una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa questo appunto è l'articolo è l'articolo 36 insomma stiamo evidentemente parlando di un capitalismo molto lontano da quello promosso dai trattati europei che invece mettono al centro il libero gioco degli attori del mercato nel quale va detto in maniera molto chiara sono vietati gli aiuti di Stato a meno che non servano a evitare il mercato dal suo fallimento evitare il fallimento del mercato scusatemi quindi mi verrebbe da dire la solita favoletta la solita storiella del socializziamo le perdite e privatizziamo e privatizziamo i profitti e all'interno diciamo di questa meravigliosa struttura abbiamo anche l'indipendenza una banca la banca centrale europea indipendenza poi voglio dire fino a un certo punto perché sappiamo benissimo che tutte le banche centrali non sono neutre come dire portano avanti interessi ben specifici no? ecco non vorrei toccare un tasto dolente ripensando a quello che è accaduto alla Grecia quando arriva al potere un governo democraticamente eletto che viene massacrato dopo tre giorni dal suo insediamento con l'allora presidente della banca centrale Draghi che sostanzialmente chiude i rubinetti di rifinanziamento delle banche dicendo in maniera molto amichevole a Tsipras fai il bravo bambino perché se no qua va a finire molto male sappiamo tutti purtroppo come è andata a finire con un paese che è stato rimesso in ginocchio con un memorandum addirittura peggiorativo rispetto a quello che era stato imposto a Samaras insomma qualche anno prima dunque in brevissimo in brevissimo questa è Europa questa è Europa che nasce a Maastricht pensiamo ai famosi parametri di cui avete parlato prima debito P60% deficit P63% prosegue con l'impatto di stabilità crescita del 98 che introduce attenzione un braccio preventivo e un braccio correttivo in riferimento alle leggi di bilancio dei singoli stati poi arriviamo adesso chiaramente vado velocissimo però credo che sia molto importante tutto questo arriviamo alla libera concorrenza senza distorsioni che è interna diciamo a quel trattato il trattato di Lisbona che oltre a definire come dire la costruzione europea come un'economia sociale di mercato aggiunge una piccola diciamo aggiunge due paroline finali che secondo me sono significative fortemente competitiva fortemente competitiva e poi arriviamo al six packs al two packs quest'ultimo in particolare introduce una maggiore sorveglianza sul bilancio dei singoli paesi e poi insomma se volessimo potremmo anche ricordare l'infame introduzione del pareggio di bilancio nell'articolo 81 diciamo della nostra costituzione in conclusione come dire cosa dove voglio dove voglio andare a parare beh diciamo che considerando il carattere fallimentare del modello liberista espresso in maniera come dire evidente nei trattati europei i principi credo presenti nella nostra costituzione oggi sono veramente più attuali che mai ma finché essi diciamo possano trovare una vera un'effettiva realizzazione dobbiamo a mio parere agire per la costruzione di un altro tipo di Europa un'Europa confederale certamente nella quale ai singoli stati venga dato più spazio di manovra perché se è vero che noi abbiamo come dire ceduto completamente la politica monetaria è altrettanto vero che i vincoli di bilancio si ci lasciano ancora a qualche margine però è come dire ti do 5 euro vai a mangiare dove vuoi beh è difficile che tutto vale in uno stellato è più probabile che tutto vada a mangiare a McDonald's o vedete voi dove insomma quindi di fatto i politici si sono tramitati da statisti a meri amministratori di condominio ma appunto come dire un'altra Europa confederale che come dire possa svilupparsi in questi termini io ho la ferma convinzione magari mi sbaglio attenzione non voglio dire che però che per essere costruita ecco sia necessario intraprendere un'altra strada no che sia necessaria sostanzialmente smantellare l'attuale Europa ordo liberale e sottolineo ordo liberale per definire il segno ideologico che connota questa costruzione e che non può essere come ho detto prima cambiata se non ha un'unanimità quindi è chiaro che è assolutamente assolutamente irriformabile quindi va proprio ricostruita dalle fondamenta ecco questa è la mia osservazione e niente insomma passo la parola a Maurizio o a Riccardo per un eventuale insomma controrebile ma mi prendo la parola un minuto dai Fabio hai ragione ma io non sappiamo che l'Europa è un organismo orrendo non democratico no non è questo il punto questo lo sappiamo la mia la mia posizione se tu dici vogliamo speriamo che salti per aria beh io dico speriamolo quello che io dico è un'altra cosa io dico che insistere su questo tende a farci dimenticare una sequenza storica visto che questi incontri in qualche modo cercano di riprodurre la sequenza storica l'Europa è così è diventata questa è così come tu hai raccontato perché i governi che l'hanno costruita l'hanno fatta così allora dire cambiamo l'Europa è un po' come dire cambiamo come dire una costruzione senza cambiare i costruttori voglio dire tu dici non c'è democrazia però noi sappiamo che anche in Italia mentre va avanti questo processo già negli anni 80 si fa di grande riforme elettorale maggioritario tutti in tutti i paesi oramai non solamente in Europa tutti la crisi del liberismo è esattamente questa ma tutti l'hanno molti paesi l'incapacità delle elite politiche di in qualche modo intercettare la volontà popolare ma questo è un problema generale cioè immaginare che come dire l'Europa abbia una particolare responsabilità ce l'ha però come dire è tuttosso una conseguenza di una situazione immaginare che l'Europa venga prima guardate è un po' lo stesso ragionamento di quello che si chiama il fallimento del modello liberista ma intanto io non so se si passa male il fallimento abbiamo avuto bassi salari precari lavoro precario disoccupazione voglio dire se era quello che volevi fare ci sei riuscito ma allora immaginiamo una risposta strutturale alla ragione che alla domanda che Fabio poneva prima com'è che è cambiato cos'è questo spartiacchio che abbiamo individuato cos'è che l'ha messo in moto e poi che cosa ha messo in moto come dire questo giuoco delle parti dell'Europa e stati nazionali beh noi lo sappiamo negli anni negli anni 70 c'è una crisi globale del tasso di profitto proviamo a ragionare su questo allora in qualche modo noi definiamo le politiche del lavoro come dire incapaci di affrontare il problema del lavoro di preoccupazione ma vediamo li vediamo come insufficienti ma il loro problema non è che intendevano affrontare quelli intendevano affrontare una crisi sistemica vengono dopo cioè la flessibilità non è la causa di qualche cosa è la conseguenza di un mutamento per cui non avendo più l'opportunità di fronteggiare la distribuzione in modo progressivo tu l'hai affrontata con la via bassa della flessibilità del lavoro dei salari bassi allora per questo hai creato come dire un apparato le riforme che mi arrivano che in qualche modo non ho permesso guardatevi mi ricordo quello che ha scritto adesso vado a memoria cosa ha scritto recentemente Pierluigi Ciocca negli ultimi 30 anni gli imprenditori italiani non hanno investito non hanno investito hanno fatto profitti facili con la finanza e diciamo anche con i bassi salari beh a me non pare un modello fallimentare certo non ci piace allora questo allora tutto questo ambaradan l'Europa in qualche modo come dire è un gigantesco un gigantesco apparato che ha permesso questo allora come dire immaginare che poi dell'Europa i nostri certo se mi chiedi se mi metti con le spalle a muro dico salti pure l'Europa per aria non ho una grande attenzione però quello che dico cerchiamo di mettere le cose col piedi per terra allora io vedo le politiche del lavoro che sono una volta conseguenza dei risultati ma sono anche come dire sono cause sono la conseguenza di un mutamento strutturale che voi avete individuato negli anni 80-90 e l'Europa in qualche modo è qualcosa che ha accompagnato questo processo immaginare che fuori dall'Europa ci sia la salvezza certo lo so bene che l'Europa è questo però come dire fuori dall'Europa non si va fuori dall'Europa se non si come dire se non si capiscono le ragioni che ce l'ha portato la chiede della democrazia ma la chiede della democrazia è un fatto strutturale dei sistemi capitalistici il liberismo ha fallito sulle sue stesse basi la democrazia elettorale quindi l'Europa non è che può fare meglio di quello che fa nei singoli stati non è qualcosa quindi questa è semplicemente una pista di riflessione metodologica quindi la scorciatoia so bene che l'Europa è questa cosa qua però come dire in qualche modo è se volete la manifestazione più vistosa di un processo che è come io un processo generale che interessa a tutti i paesi e ogni paese ha approfittato dell'Europa e qualche volta anche come dire ha subito delle conseguenze perché non sempre come dire le mosse vanno a buon fine però come dire errori fraintendimenti aspettative deluse ci sono ma se vediamo l'Europa come uno strumento di strategie di nazionale o anche di classe beh tu comprendiamo qualcosa di più ci sono scorciatoie il problema è più complicato di questo ecco questo è un po' però riconosco che la cosa mi tenerebbe molto più probabilmente molto maggiore però non si è data di negare le cose che dice Fabio lo sappiamo il problema è come interpretiamo queste cose qua non c'è un'autonomia dell'Europa l'Europa si è diventata una manifestazione di un processo più generale scusate ho riacceso adesso il microfono adesso siamo già un'ora e mezza di trasmissione quindi abbiamo già sforato un po' ma credo che abbiamo toccato abbastanza bene tutti i punti che erano oggetto di questa iniziativa e niente io direi di concludere qui questo terzo incontro e vi ricordo che il quarto incontro si terrà venerdì prossimo sempre alle otto e mezza e buonasera a tutti grazie buonasera buona serata ciao ciao ciao